Il concetto di fratellanza universale che è stato utilizzato, perché quello è un concetto assolutamente chiave su cui bisogna intendersi. È chiaro che il concetto di fratellanza universale è un concetto degno, nobile, della migliore tradizione filosofica e culturale del nostro Occidente. Tuttavia, occorre distinguerlo attentamente dai possibili usi ideologici che il discorso egemonico oggi ne fa. La fratellanza universale, infatti, oggi, nel discorso egemonico, diventa l'alibi per indebolire i rapporti con chi ci sta accanto. In nome di una fratellanza universale utilizzata solo come alibi, ci viene quotidianamente chiesto di allentare i rapporti e i legami con chi ci è più vicino, vissuti intrinsecamente su detti rapporti con chi ci è più vicino, come se fossero in qualche modo un'ingiustizia rispetto al più alto concetto di fratellanza universale. In questo modo la fratellanza universale diventa una sorta di universale astratto che ci porta a perdere i particolari concreti. Come dire, bisogna aderire all'universale astratto della fratellanza universale e questo non coincide mai con i singoli legami concreti che quotidianamente intrecciamo nella nostra vita. Per questo io, per, ed è questo tra l'altro anche, temo uno dei concetti che vengono proposti in un'enciclica recente del pontefice Bergoglio, Fratelli Tutti. In questa enciclica troviamo più che la condivisibilissima e dirò di più fondamentale tesi che è stata anche del cristianesimo, secondo cui siamo tutti fratelli e quindi questo deve essere un argomento per trattare sempre chi ci è accanto come tale, troviamo a mio giudizio una deriva tale per cui il concetto di fratellanza universale viene utilizzato in qualche modo come alibi per giustificare i processi della cosmopolitizzazione dei mercati in atto, che prevedono una sorta di distanziamento di ciò che ci è vicino e di avvicinamento di ciò che è lontano. Come dire, il dispositivo è quello per cui ci viene chiesto di amare l'umanità con la fratellanza universale, trascurando chi ci è concretamente accanto. Diceva già Jean-Jacques Rousseau nell'Emilio che molto spesso il sintagma amare l'umanità diventa l'alibi per non curarsi dei propri vicini di casa. Ecco, forse era esagerata questa espressione, però voglio dire che sono molto d'accordo sul concetto di fratellanza universale, però bisogna determinarlo concretamente. E quindi, anziché declinarlo come universale astratto, occorre declinarlo come universale concreto, per dirla alla maniera hegeliana. Cos'è l'universale concreto? È l'universale che esiste nelle particolarità specifiche. Come la razza umana, l'universale umano, esiste nelle singole culture, lingue e tradizioni che popolano l'umanità, così la fratellanza universale esiste nelle relazioni di fratellanza che istituiamo nella nostra comunità. Questo è il tema fondamentale. Sotto questo riguardo diceva, permettetemi ancora una citazione filosofica, diceva Fichte in un aureo libretto intitolato Il patriottismo e il suo contrario, diceva Fichte, è un erramento pensare che ci sia il patriottismo che si occupa del particolare e il cosmopolitismo che si occupa dell'universale. Fichte diceva, il vero patriota è cosmopolita e il vero cosmopolita è patriota, ma in che senso? Nel senso che il vero patriota, occupandosi della propria patria, si occupa di quella parte di umanità con cui ha a che fare. E il vero cosmopolita, allo stesso modo, ama l'umanità nella misura in cui ama quell'umanità con cui ha quotidianamente a che fare. Laddove, invece, un patriottismo inteso come puro particolarismo general generico e un cosmopolitismo, ugualmente inteso come universale astratto, producono solo, e ne abbiamo tanti esempi nella storia, delle sciagure. Noi dobbiamo provare a intrecciare l'universale e il particolare sotto questo riguardo. E quindi la fratellanza universale è importante, ma si declina alla maniera anzitutto di Antigone. La fratellanza per Antigone è il rapporto col suo fratello concreto. La fratellanza per noi è la relazione con chi ci sta concretamente a fianco. Il discorso proditorio del cosmopolita oggi ci chiede invece di amare l'umanità come giustificativo per il fatto che non dobbiamo più amare chi ci sta a fianco. E quindi amare l'umanità diventa l'alibi per disinteressarsi della propria patria, del proprio popolo, della propria comunità. Ma questo è l'inganno del discorso di cui stiamo discutendo, perché in realtà che altro è l'umanità se non la sintesi dei popoli che abitano l'umanità? Che altro è la cultura se non la sintesi delle culture che sono nel mondo? E quindi mi pare importante insistere su questo tema della fratellanza universale declinata in questa maniera.